Con Giorgio Perinetti c'è un buonissimo rapporto, una persona che stimo, ma è la carriera poi che dice che l'Avellino ha preso un grande dirigente, quindi sicuramente farà bene, io ho buoni rapporti con tutti. Avete avuto qualche colloquio seppure siamo in una fase interlocutoria del calciomercato? No, in questo momento no, il direttore è una persona che vanta di una carriera importantissima, una persona seria, ha un buonissimo rapporto, mi stima e se ci dovesse essere qualcosa non ci sarà nessun tipo di problemi per sedersi e trattare. Eppure si era parlato di due figure, un'entrata e un'uscita, di un vostro interesse per Moretti, giovane difensore dell'Avellino, e di un interesse a sua volta dell'Avellino per Galuppini. C'è qualcosa di vero? No, sinceramente di questo io rimango dal punto di vista dei difensori centrali, ne prenderò uno, ma sarà probabilmente un esperto, il resto sono a posto e per quanto riguarda Galuppini ho diverse proposte, se al direttore interesserà Galuppini mi chiamerà.